Un tredicenne ha aperto il fuoco ferendo due persone, padre e figlio, nel quartiere palestinese di Silvan, a Gerusalemme Est, vicino alla città vecchia. Il giovane ha cercato di dileguarsi prima di essere fermato dalle armi da fuoco di due passanti titolari di porto d'armi. Le forze dell'ordine israeliane hanno bloccato diverse strade e mobilitato mezzi di emergenza ed elicotteri e hanno annunciato una reazione nell'immediato. Un attacco che si è svolto poco lontano dal luogo dove 24 ore prima una sparatoria provocava la morte di sette persone vicino alla sinagoga del quartiere Neve Jakov. Il killer è morto durante la fuga colpito dagli agenti, ma sono 42 le persone arrestate e interrogate nell'ambito delle indagini. In Cisgiordania c'era chi festeggiava, ma in molti nella regione piangevano i 10 morti del blitz dell'esercito israeliano di giovedì scorso.